Ciao Umberto, sono un salutatore, puoi fare un saluto a tutti i tuoi fans del web? Ehi, ciao! Sei un grande o una sorpresa a tu? Sì, 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 una sorpresa per te, la manina. Wow! La manina per te del salutatore. Ciao! Sei un grande, io sono un tuo fan, ciao!